Musica Elezioni amministrative ad Albino, il progetto civico di centro-sinistra punta su una donna, Simonetta Rinaldi, candidata sindaca da 20 anni impegnata nel mondo dell'economia solidale e al suo debutto in politica. A Gandellino l'amministrazione comunale lancia un concorso per giovani videomaker, l'obiettivo è far raccontare in immagini la realtà del paese. Per l'8 marzo all'istituto Fantoni di Clusone un percorso sui diritti delle donne e questa sera anche un incontro a scuola. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Si va completando il puzzle delle liste dei candidati in campo per le prossime elezioni amministrative di Albino. A meno di sorprese la sfida sarà a due, centro-destra contro centro-sinistra, la maggioranza uscente contro l'attuale opposizione in consiglio comunale. E se la prima sostiene ancora il sindaco Fabio Terzi, la seconda punta su un volto nuovo. Simonetta Rinaldi, classe 1966, libera professionista, sposata, quattro figlie e lei la candidata sindaca di Per Albino Progetto Civico. Da vent'anni impegnata nel mondo dell'economia solidale e alla sua prima esperienza politica in senso stretto. Tra le iniziative che la vedono coinvolta il gruppo di acquisto solidale di Albino, la rete cittadinanza sostenibile, l'associazione mercato e cittadinanza che ad Albino promuove il mercato agricolo e non solo. L'abbiamo intervistata. Simonetta Rinaldi è la candidata sindaca di Per Albino Progetto Civico alle prossime elezioni amministrative. Anzitutto come nasce la sua candidatura? Allora io sono sempre stata attiva come cittadina attiva e consapevole, quindi non ho mai preso parte a un'esperienza di struttura istituzionale, quindi non sono mai entrata nelle istituzioni, non sono mai stata all'interno di un partito, però ho sempre fatto quella che io chiamo la politica con la più maiuscola, cioè quella del cittadino attivo che si rende disponibile e che prende anche delle iniziative, porta avanti delle iniziative pro comunità, cittadinanza eccetera eccetera. Quindi diciamo che nasce un po' da lì, questo mio desiderio, questa mia attività l'ho sempre portata avanti in altri ambiti, adesso così grazie anche un po' alle persone che avevo intorno, all'occasione delle elezioni, ci siamo chiesti, forse è il caso di cominciare magari anche un'esperienza diversa per portare avanti sempre gli stessi ideali, gli stessi valori in un'altra veste e quindi eccomi qua. Perché hai deciso di accettare? Dunque è stata una decisione comunque pensata, perché comunque già essendo attiva in vari gruppi, in varie associazioni avevo già il mio bel da fare, però l'idea di comunque fare quel passo in più per magari portare avanti anche le stesse cose in un altro modo. Come cittadina attiva ho sempre cercato anche la collaborazione delle istituzioni e anche visto che a volte è facile, a volte no, a volte ci sono persone che capiscono l'ambito in cui ci si muove, le idee, gli ideali eccetera eccetera, altre volte magari è più difficile perché sia distante anche semplicemente così a livello personale. Quindi il fatto di cominciare magari un'avventura di questo tipo potrebbe avere un riscontro positivo anche per le iniziative dei cittadini che hanno le stesse mie sensibilità, che condividono i miei stessi valori e che agiscono al di fuori, quindi è una sfida anche in questo senso portare avanti dei progetti in un altro modo e magari anche in modo più consistente, più concreto. Come pensa di portare la sua storia personale in questa esperienza? Innanzitutto i temi che vogliamo appunto curare e approfondire all'interno dell'amministrazione se ce ne sarà l'occasione sono proprio quelli che ho sempre portato avanti, quindi la cittadinanza attiva, i beni comuni, la cura dei beni comuni collettivi, la cura del territorio, dell'ambiente, la partecipazione anche, questo è un punto molto importante che non tutte le amministrazioni vogliono o sono pronte a mettere in campo, questi sono dei punti forti per noi. All'interno di questi temi così generali ci stanno tutte le problematiche e anche le risorse che è una comunità, nel caso di Albino ad esempio, la questione del centro storico, risorse e tesori che ci sono e che sono magari abbandonati a se stessi, piuttosto che appunto la partecipazione collettiva in progetti particolari o per l'amministrazione un po' allargata del bene comune. Come state portando avanti, come porterete avanti la vostra campagna elettorale? Allora, come dicevo prima, la partecipazione è uno dei punti fondanti. Sì, infatti anche il percorso che abbiamo fatto fino adesso è stato un percorso partecipato, abbiamo fatti dei gruppi di lavoro aperti alla cittadinanza, chi ha voluto partecipare è stato libero di venire e di farlo e quindi questi quattro gruppi tematici saranno quelli che poi porteranno il risultato del loro lavoro e insieme dovremo appunto stilare il programma vero e proprio. Quindi già il programma in sé è scritto con il metodo partecipativo. Da qui in poi poi si pensa di proseguire sempre con queste modalità e aprendo comunque la partecipazione che non sarà solamente la comunicazione, ma proprio anche la partecipazione attiva. Quindi questa è la cosa fondante che ci caratterizza già da subito. Andiamo a Gandellino dove l'amministrazione comunale lancia un concorso per giovani videomaker. L'obiettivo è far raccontare in immagini la realtà del paese sotto diversi aspetti. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Gandellino ha istituito un premio dedicato all'ingegnere Lorenzo Barbetta. Com'è nata questa iniziativa? Allora, l'ingegnere è morto lo scorso anno e i familiari hanno deciso di ricordarlo attraverso una donazione che è stata fatta al comune di Gandellino. È una donazione che aveva però l'obiettivo, quello di aiutare uno dei nostri ragazzi a crescere, a crescere nei vari settori. Per cui l'amministrazione ha deciso di fare questo bando per la realizzazione di un cortometraggio massimo della durata di 5 minuti che avesse come obiettivo Gandellino in movimento, cioè che servisse a sponsorizzare il comune di Gandellino. All'interno di questo bando, che è dedicato ai ragazzi dai 18 ai 30 anni, ci sono tre filoni che possono essere seguiti. Uno riguarda l'esposizione turistica del comune di Gandellino, quindi uno può decidere di seguire questo. Noi abbiamo parecchie cose belle da vedere sul territorio, a parte l'altare che abbiamo vicino alla località San Carlo, a parte alcune opere, abbiamo opere del Carpinone, abbiamo una chiesa bellissima, abbiamo parecchie cose belle sul territorio. Proprio di recente, domenica scorsa, parlavo con il gruppo Erasmus che fa sempre capo al comune di Gandellino tre volte l'anno e la settimana scorsa c'erano questi ragazzi, io mi sono fermata a chiacchierare con un turco, con un sudcoreano e con un inglese che mi dicevano che è bellissimo venire qui, trascorrere le vacanze qui perché ritroviamo una dimensione che magari in altri posti non troviamo. Quindi Gandellino ha tante cose belle dal punto di vista turistico. Poi un altro filone che potrebbe essere seguito è l'evidenziazione delle opportunità economiche realizzabili sul territorio, quindi qualcun altro può seguire questo filone. Qualcun altro invece potrebbe seguire l'individuazione delle opportunità umane relazionali che possono essere instaurabili sul territorio del comune di Gandellino. Ovviamente noi lasciamo adesso il termine scadrà alla fine di luglio, ci sarà poi una commissione con tre giornalisti che valuterà le opere e la valutazione delle opere sarà seguendo un criterio, un criterio che riguarda l'aderenza al tema, la qualità tecnica, ma i maggiori punti saranno dati per la realizzazione concreta della proposta di crescita del territorio nei vari settori. Questo perché l'obiettivo è proprio quello di sponsorizzare, valorizzare e trovare nuove idee per il nostro comune, che è un comune che vogliamo assolutamente sia un comune in movimento. Chiaramente all'interno della commissione farà parte anche uno dei membri della famiglia dell'ingegner Barbetta, famiglia che ringraziamo per questa opportunità che ci ha dato e il premio verrà consegnato intorno alla fine di agosto. L'importo del premio è di 1000 euro. Crediamo che più che altro è un piccolo contributo per le spese che questi giovani tra i 18 e i 30 anni dovranno affrontare, ma sarebbe molto bello, siccome è aperto a tutti i cittadini dell'Alta Valle Seriana, sarebbe molto bello che si mettessero in competizione fra di loro e che dimostrassero come i nostri giovani hanno idee, volontà, voglia di impegnarsi un po' nelle varie attività. Nei giorni scorsi alcuni giovani di Gromo, grazie a un viaggio promosso dall'amministrazione comunale insieme ad alcuni sindaci bergamaschi, hanno raggiunto Bruxelles per una visita al Parlamento europeo. La visita è stata dedicata soprattutto a caratteristiche e compiti del Parlamento, ma ha permesso di approfondire anche il tema dei contributi europei. Il 26 maggio i nostri maggiorenni saranno chiamati per la prima volta a votare per le elezioni europee, spiega la sindaca di Gromo, Sara Riva. In qualità di prima cittadina mi sono chiesta come potessi essere utile e vicina ai nostri neodiciotenni in questo momento di crescita e di scelte importanti. Ho quindi pensato di organizzare per i ragazzi delle classi 1999 e 2000 del nostro Paese un viaggio che permettesse loro di acquisire una maggiore consapevolezza di questa opportunità che rappresenta al contempo un dovere civico. Cambiamo argomento, l'8 marzo all'Istituto Fantoni di Clusone è diventato l'occasione per un percorso sui diritti delle donne che ha coinvolto le classi del liceo delle scienze umane e poi è stato esteso agli altri studenti. La giornata si concluderà poi con un incontro questa sera a scuola. Il servizio è di Andrea Filisetti. In questi ultimi mesi gli studenti hanno effettuato un percorso dedicato ai diritti delle donne. Sì, abbiamo trattato l'evoluzione dei diritti della donna. Studiando poi diritto con me chiaramente la materia si prestava a poter trattare l'evoluzione di questi diritti sotto vari aspetti. Quindi col biegno alle prime due classi si è trattato un po' la figura femminile in generale andando ad analizzare alcune particolari figure di donne. Mentre in terza, quarta e quinta delitto civile, commerciale e pubblico abbiamo trattato la donna, l'evoluzione dei diritti fino ad arrivare purtroppo al femminicidio. Un tema che ricorre ogni giorno e che abbiamo cercato tramite l'attività di conoscenza e di approfondimento di analizzare alcuni aspetti in particolare. La classe quarta nel commerciale ha trattato l'evoluzione della donna da un punto di vista dei diritti del lavoro. La classe quinta nel diritto pubblico, le donne della costituente, le 21 donne che hanno garantito la loro presenza in assemblea costituente e anche la tutela e la considerazione particolare di alcuni diritti che fino ad allora purtroppo non erano presi in considerazione. Avete pensato anche a un incontro pubblico? Sì, abbiamo pensato di rendere il lavoro fatto dai ragazzi anche alla cittadinanza, cioè di poter confrontarci con gli abitanti del territorio, i genitori dei ragazzi ma anche altri, attraverso la presentazione di alcune figure femminili che nel territorio hanno conquistato alcune posizioni, quali per esempio una sindaco, una presidente di consiglio comunale, avvocatesse e chiaramente, perché abbiamo ritenuto importante che le ragazze trascorressero questa giornata dell'8 marzo in un modo un po' particolare, non con la solita pizza che si va a prendere insieme ma con un'analisi di questo tema che merita un'attenzione particolare e credo che la scuola abbia il dovere fondamentale di rendere i ragazzi protagonisti nell'acquisizione di quelle conoscenze importanti per costruire la loro cittadinanza, l'essere cittadini in un futuro dove costruiranno poi le basi per ulteriori cittadini che saranno i loro figli. Allora, questa giornata, come tutte le altre mattine, dovrebbe essere ricordata perché è appunto la festa della donna. A me personalmente ha lasciato molto e sta tuttora lasciando tantissimo perché mi sono unita molto con la mia classe e le mie compagne per realizzare il progetto che stiamo presentando agli alunni di tutte le altre classi per sensibilizzare appunto questa tematica. È molto importante vedere come il corso lessi in questo caso si sia unito per realizzare questo progetto ed è bellissimo che si possa uscire qualche volta dalla realtà scolastica che comprende solamente lo studio per esempio e l'acquisizione di nozioni e tecnicismi per realizzare un'esperienza più trasgressiva possiamo dire che comprende la musica, tantissimi cartelloni, dei video e esperienze più didattiche che possono legare in qualche modo noi studenti oltre alla semplice noziosismo che i professori ogni giorno ci spiegano. Questo progetto è partito particolarmente dalla mia classe con l'aiuto della professoressa di diritto e avendo deciso di realizzare questo progetto abbiamo pensato che fosse bello e utile comunque collaborare con tutte le altre classi del corso less. Questo secondo me è stato un'enorme, una grande responsabilità comunque anche per l'organizzazione. Ok, una giornata un po' movimentata per la festa della donna a scuola. Movimentata ma direi positivamente movimentata questo progetto che è partito da un'idea della professoressa Tucci già da quest'autunno e è stato poi costruito insieme agli studenti del corso liceo economico sociale del Fantoni. Vede oggi l'epilogo ma la maturazione di tutto questo percorso che è stato fatto in questi mesi. L'energia che i ragazzi e le ragazze hanno messo in questo percorso per tutte le classi del corso less ha coinvolto l'intero istituto e quindi questa è un'energia positiva che ci fa ben sperare. Dell'8 marzo e della festa della donna parleremo anche dopo la pausa. A tra poco. Riprendiamo con il nostro telegiornale e parliamo ancora dell'8 marzo. Sentiamo che cosa ci ha detto la senatrice Alessandra Gallone a proposito della festa della donna. È l'8 marzo, auguri innanzitutto, ma approfittiamo della sua presenza oggi quindi in studio di Antenna 2 anche per raccogliere un suo pensiero sulle donne, anche le donne in politica magari. Allora innanzitutto auguri a tutte le mie colleghe donne, cioè colleghe di genere. L'8 marzo comunque è una festa bella, è una festa da un lato gioiosa perché appunto si festeggia genere femminile del grande genere umano. Dall'altra parte è una festa che ci ricorda da un lato i grandi traguardi raggiunti dalle donne e dall'altro purtroppo che tante cose ancora vanno fatte e quindi c'è sempre bisogno, sempre più bisogno di donne in politica perché la politica è un momento estremamente decisionale, un momento all'interno del quale si possono fare cose importanti e io penso che la sensibilità femminile unita poi invece a quella maschile quindi insieme si possono fare le cose in maniera completa. Non ci deve essere prevalenza degli uni rispetto alle altre ma equilibrio quello sì, quindi noi non smetteremo mai di cercarlo e di chiamarlo questo equilibrio perché soltanto insieme donne e uomini come persone potranno fare la differenza. Il disequilibrio porta sempre a zoppicare, quindi tanti tanti auguri e mi raccomando tutte le donne, soprattutto le giovani donne, non abbiate paura di impegnarvi in politica perché c'è tanto tanto da fare. Ecco in qualche campo oggi si inizia a parlare anche di quote azzurre dall'altra parte. Ci sono tanti campi in cui la prevalenza femminile ma anche in politica e paradossalmente nelle liste a volte si fa meno fatica a trovare le componenti femminili di quelle maschile. Poi ci sono dei campi particolari come per esempio il campo medico. Nel campo medico le donne stanno raggiungendo grandissimi risultati. Poi però c'è sempre quel gap che fa sì che per esempio nell'Istituto Superiore di Sanità su 30 componenti soltanto 3 siano donne e questo non è giustificato perché in realtà ci sono tantissime donne ricercatrici con grandi titoli. Quindi abbiamo ancora quel pezzettino da fare per avere veramente la libertà di accesso rispetto ai meriti e rispetto alle proprie qualità. Ecco tante volte la donna è ancora vista così come con qualcosa in meno. Tanto prova ne è che ancora a livello salariale, a livello proprio di economico le donne ancora prendono di meno degli uomini in qualsiasi campo e questo non è giustificato. C'è ancora un pezzettino di strada da fare ma insomma siamo arrivate fino qua e ce la faremo ad andare anche oltre. E continuiamo a seguire adesso i ragazzi del CSE di Ponte Selva che da reporter stanno scoprendo le realtà della Valle Seriana che si occupano di soccorso e emergenza. Questa volta si sono dedicati alla protezione civile di Clusone. Oggi siamo nella nuova sede della protezione civile di Clusone per continuare la nostra attività di titolismo. Un po' storia. La protezione civile di Clusone nasce ufficialmente nell'83 sullo spunto di un intervento fatto dai primi consiglieri tra cui il nostro presidente fondatore Tino Gualberti che nel 76 era intervenuto con alcuni volontari di Clusone sull'emergenza terremoto in Friuli. E appunto hanno deciso poi di creare questa associazione che dall'83 attiva sul territorio di Clusone il territorio comunque dell'alto piano. Quali e quanti sono gli autometti in dotazione? In alcuni casi usate anche un elicottero? Dunque, noi abbiamo come nostri mezzi abbiamo un pick up per il trasporto di persone e attrezzature, abbiamo un piccolo fuoristrada utile per andare a fare i primi interventi anche in zone dove l'accessibilità è limitata e abbiamo un furgone centinato dove possiamo caricare le attrezzature e personale. Abbiamo in più anche dei rimorchi che servono per attività specifiche quali potrebbero essere l'emergenza idrogeologica, l'emergenza antincendio, appunto sono le rimorchi adibiti solo a quello. E diciamo che li usiamo parecchio. Ci capita anche di andare con gli elicotteri perché in caso di emergenza, di antincendio boschivo in zone dove l'accessibilità con i mezzi è limitata, avendo fatto dei corsi siamo formati per questo, veniamo caricati e veniamo scaricati in prossimità dell'incendio in modo di essere più repentini agli interventi. Svolgete la vostra attività anche la notte e nei giorni festivi? Eh sì, perché l'emergenza non ha diciamo il giorno o notte. Ci capita spesso e volentieri di dover intervenire sia di notte che nei giorni festivi. Ad esempio l'anno scorso, la sera di Pasqua, siamo dovuti uscire a mezzanotte per una ricerca dispersa nel comune di Oltre il Colle. Per questo motivo noi abbiamo studiato presso la nostra sede comunque una stanza dove il personale che o opera deve operare la mattina presto o comunque durante la notte deve operare dove può diciamo riposarsi per quelle tre o quattro ore. Infatti ci sono i letti e c'è tutto necessario per riuscire a dormire anche qua in sede. Nei vostri interventi vi è capitato di prestare soccorso anche ad animali? Raramente ma è capitato, ci è capitato di intervenire per soccorrere anche dagli animali. In media quanti sono gli interventi in un anno? Allora diciamo che nel 2018 è stato un anno abbastanza movimentato e abbiamo percorso su controlli del territorio circa, abbiamo percorso più di 2000 chilometri con i nostri mezzi e abbiamo fatto oltre un centinaio di uscite sparse durante l'anno. Quanti sono i vostri volontari? Al momento la protezione civile di Clusone conta 55 operatori tutti volontari e diciamo vengono da varie parti dell'altopiano tra cui Villadogna, Rovetta, Clusone e qualche volontario viene anche nella zona dell'Interland di Bergamo. Come si entra a far parte della protezione civile? È necessario fare un corso di formazione? Per entrare in protezione civile bisogna riprendere contatto con l'associazione tramite il nostro indirizzo mail o tramite il numero di telefono di servizio della protezione civile. Una volta contattati, magari di solito noi procediamo con un breve colloquio, una volta iscritta all'associazione bisogna fare un corso di formazione base che devono farlo tutti i volontari perché viene insegnato il mondo della protezione civile, gli interventi e come funziona appunto tutto il sistema. Una volta fatto questo corso, l'operatore che ha deciso di entrare può scegliere le specializzazioni quali può essere l'antincendio boschivo, la ricerca dispersi o le varie emergenze. Dopo noi organizziamo spesso e volentieri una serie di corsi. Questi corsi, per la maggior parte dei casi, possono essere spendibili anche a livello lavorativo. In tanti oggi l'avranno regalata, ma magari non tutti conoscono le proprietà della mimosa. Ce le spiega quindi nella rubrica Erbe e Salute la dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti e siamo proprio in occasione della festa della donna con la puntata di Erbe Erbe e Salute. Quindi come pianta di cui parlare questa sera ho proprio scelto la mimosa. La mimosa è della famiglia delle acace e esistono diversi tipi di mimosa. C'è la mimosa de'albata o acacia de'albata che è la mimosa bianca. Allora, la mimosa è un albero di origine australiano e già da quasi 200 anni ha preso piede anche in tutta Europa. La mimosa de'albata, che è la mimosa bianca, è quella più conosciuta come simbolo della purezza e già nel XII secolo troviamo praticamente l'usanza di regalarla alle fidanzate prima del matrimonio. La mimosa invece conosciuta nei nostri giorni è quella la cosiddetta acacia rotundifoglia. Quindi questa mimosa gialla viene definita dall'antichità anche come albero della pelle perché già all'epoca dei Maya veniva utilizzata perché era un ottimo riepitelizzante con dei buonissimi principi attivi per curare praticamente piaghe e ustioni sulla nostra pelle. Ai nostri giorni l'uso farmacologico o fitoterapico della mimosa è andato completamente perso perché non esistono degli studi scientifici che garantiscano l'efficacia del principio attivo. È rimasta come pianta ornamentale da giardini o parchi ed è rimasta legata come simbolo della donna per la festa della donna. È stata eletta a simbolo della festa della donna nel 1946 praticamente quando le donne attiviste che dovevano scrivere la carta dei diritti della donna hanno stabilito che da quell'anno tutti gli otto marzo sarebbe stata la celebrazione della festa della donna e come simbolo è stato scelto la mimosa ma semplicemente perché tra tanti fiori era quello che costava meno. Quindi vedete che già allora le donne si occupavano della nostra economia. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne da zero a cent'anni ma non solo oggi e per ricordare a quelli che invece regaleranno solo oggi per la festa della donna il rametto di mimosa di pensare che non è e non deve essere solo un gesto consumistico ma un gesto di rispetto per tutto il genere femminile. Arrivederci e buona serata. Una breve pausa e poi torniamo per la parte finale. Di nuovo in onda con il telegiornale verso la fine con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20 e 30 un nuovo appuntamento con il settimanale di informazione target. Alle 22 e 10 Italia Economia. Alle 22 e 30 la seconda edizione del TG. Alle 23 e 15 Decoder. Il canale News 218 propone alle 21 e 30 il telegiornale. Alle 22 e 10 l'anteprima target. Questa sera un'intervista a Dedo Arto Zorzi 22enne di Son Gavazzo che ha partecipato ai campionati del mondo di ski cross. E poi il canale sportivo 628. Alle 20 e 30 il programma di motori Paddock. Alle 22 e 30 la partita di calcio Prada Lunghese-Valcaleppio. L'Almanacco domani è sabato 9 marzo. Il sole sorge alle 6 e 40 e tramonta alle 18 e 22. La luna è in fase crescente e sorge alle 8 e 17 e tramonta alle 21 e 08. La chiesa ricorda San Domenico Savio. E infine le previsioni del tempo. Domani su Alpi e Prealpi Lombarte abbastanza soleggiato a tratti velato, temperature in aumento. Il telegiornale si conclude qui. Grazie per l'attenzione e buona serata. Il telegiornale si conclude qui. Grazie per l'attenzione e buona serata.